Bentornati nell'Orto in Telechia. Questo marzo 2019 inizia con un sorprendente ritrovamento archeologico. In serra, dalle profondità del vasone dove l'anno scorso trovarono dimora, ecco che riemergono i tuberi delle antiche patate blu d'Artois, recuperate nel 2017 dalla bancarella di Patatène, un anziano contadino di Villanova. Osserviamo che grazie al freddo di questo inverno i tuberi si sono conservati bene e non sono minimamente raggrinziti ed anche i germogli sono abbastanza cauti nella crescita. È il momento di valorizzare questa preziosa varietà convogliandone l'energia potenziale in un processo evolutivo di entelechia affinché possa esprimersi diventando reale. Così cominciamo a recidere le patate in modo da conferire un'identità ad ogni singolo germoglio e così facendo gli permettiamo di esprimersi al pieno delle loro potenzialità, poiché ogni germoglio di patata è potenzialmente una nuova pianta di patata. Se piantassimo la patata intera, tutti i germogli crescerebbero assieme condividendo lo stesso spazio e lo sviluppo di ciascun germoglio sarebbe inversamente proporzionale alla grandezza del loro numero. Invece, dividendo i germogli, attuando un vero e proprio ripicchettamento, si riesce a dare spazio sufficiente ad ognuno affinché possa svilupparsi al meglio per lo stesso principio secondo cui non piantiamo assieme 4-5 insalate ma le diradiamo facendone stare una in ogni postazione a lei dedicata. Una volta aver suddiviso i germogli, possiamo accorciare quelli più lunghi tagliandoli in modo da mantenere integro il primo paio di gemme inferiori, quelle subito dopo le radici. Questa pratica può essere paragonata allo svettamento delle foglie dell'insalata al momento della messa a dimora, tecnica che favorisce la riorganizzazione della linfa vitale in virtù di una crescita più rigogliosa ed un migliore attecchimento radicale. A questo punto la tradizione contadina vuole che si lasci passare almeno qualche ora di tempo affinché i tagli dei tuberi possono asciugarsi e in questa fase può essere propizio passare qualche goccia di tea tree oil sulla parte tagliata da cicatrizzare al fine di scongiurare ogni possibile attecchimento di funghi o muffe dannose. Quando i tagli sono ben asciutti, si può procedere con la piantumazione interrando i germogli direttamente in orto oppure, come in questo caso, si possono rinvasare al fine di valorizzare al meglio le poche ma significative risorse genetiche da cui partiamo per moltiplicare e rinnovare questa antica varietà preziosa. I vasetti di patata rimarranno ora a riposo per qualche giorno in attesa di risvegliarsi proprio come queste marze di uva da tavola ricevuta in dono da Anna Fanton a febbraio. Ora sono a bagno nell'acqua elemento fondamentale per la loro e la nostra vita ma presto andranno interrati fino alla prima gemma affinché possano lentamente compiere una delle più alte forme di alchimia producendo radici laddove normalmente avrebbero prodotto foglie e fotosintesi. Il 20 febbraio, in Serrafredda, abbiamo seminato anche pomodori e peperoncini e ai primi giorni di marzo li abbiamo visti nascere ed ora eccoli che crescono a vista d'occhio pronti al ripicchettamento o alla più impavida diretta messa a dimora. Parallelamente, anche tutti i cavoli seminati a gennaio e ripicchettati a febbraio grazie alle calde giornate di marzo stanno mettendo il turbo e sono visibilmente pronti a trovare il loro posto nell'orto. Allo stesso tempo, anche le insalate e lo scalogno nel cassone gioiscono delle temperature in aumento e si esprimono nella loro massima magnificenza scultorea. A completare questo scenario di abbondanza immacolata ci sono anche i nuovi semenzai dove già trovano vita le piantine del secondo ciclo per questo 2019. E se da un lato nel vivaio in Serra si prepara la nuova vita dall'altro nell'orto è il momento di raccogliere tutto ciò che avevamo messo a dimora tra la fine dell'estate e l'autunno, dal capitolo 11 in avanti. Ecco il finocchio, simbolicamente rincalzato nel capitolo 13 a rappresentanza della mediazione e della libertà con cui espiare ogni forma di privazione. Ora che lo troviamo nel pieno della sua magnificenza lo raccogliamo praticando il taglio abbastanza alto da lasciare integra la radice e parte del colletto da cui presto ripartiranno altri getti che potranno essere nuovamente diradati permettendo così al finocchio di risorgere ancora una volta e forse produrre un altro raccolto. Le stesse dinamiche e le stesse logiche valgono per questo meraviglioso radicchio pan di zucchero che venne già raccolto una prima volta in inverno e ricresciuto dalla sua radice durante l'inverno passato sotto al tessuto non tessuto è riuscito a produrre un altro raccolto che arricchisce questa primavera 2019 Anche le lattughe trapiantate nel capitolo 12 iniziano ad essere pronte e mentre le raccogliamo non possiamo non contemplare quello che diceva Antonio guardando le sue insalate cioè io ho fatto una scultura poi se si mangia è meglio ma intanto mi sono espresso con la creatività mia e di Dio della natura Ecco la stessa incredibile capacità di espressione la troviamo anche in questo radicchio pintone anch'esso rinato dalla sua radice dopo il raccolto invernale e al tempo stesso giunge il momento di raccogliere finalmente per la prima volta i cipollotti nati dalle cipolle piantate nel capitolo 13 Solitamente i cipollotti li raccogliamo integralmente con tutta la radice ma questa volta in via sperimentale lasciamo la radice interrata e pratichiamo un taglio più alto in modo da vedere se anche loro riusciranno a rinascere dando un secondo raccolto in estate Che dire di fronte all'abbondanza che la terra può produrre spontaneamente sorge un senso di gratitudine ma non solo in tutto ciò c'è anche un senso di sorpresa poiché sebbene faccia tutto parte di una ciclicità ricorsiva per noi è importante ricordarci di come nulla sia scontato nella quotidianità della normalità sotto ai nostri occhi attimo dopo attimo si compie un miracolo in ogni manifestazione della sapiente natura ed è importante coglierlo qui e ora affinché non passi inosservato questo pesco l'abbiamo ricevuto in dono a fine febbraio del 2017 e l'abbiamo messo a dimora nelle aiuole dell'orto in Telechia la sua radice così come la sua parte aerea era già compromessa ma dopo averlo trattato con tecniche volte alla rigenerazione della sua struttura ecco che dopo due anni è tornato ad essere una pianta sana ed equilibrata il cui portamento si sta sviluppando liberamente secondo il suo integro disegno di natura ovvero mantenendo la sua gemma apicale fiancheggiata fedelmente dai rami laterali in tutto l'orto troviamo anche i cavoli messi a dimora nel capitolo 5 ad aprile che ora, dopo quasi un anno, sono in procinto di fiorire strutturandosi secondo le auree e ricorsive forme naturali che collegano il piccolo orto con la linearità dell'intero universo come si può chiaramente vedere nei broccoli romaneschi recuperati dal portale francese Cocopelli e poi riprodotti nel 2015 qui nell'orto in Telechia assieme a loro troviamo anche un'altra varietà di broccolo ricevuta in dono nel 2016 da Mauro un amico incontrato lungo il percorso dell'agricoltura sinergica questi broccoli sono stati da lui selezionati negli anni partendo da un'incrocio naturale tra due antiche varietà questo è il frutto della sua selezione ed oggi trova di mora qui, nell'orto in Telechia dove teorizziamo di lasciarlo fiorire e incrociare liberamente con tutte le altre varietà di broccoli qui presenti in modo da ricombinare i loro patrimoni genetici dando vita a nuove e rustiche antiche varietà assieme ai broccoli troviamo anche altri cavoli sempre messi a dimora tra aprile e maggio dell'anno scorso come questo bel cavolo riccio che ormai si erge verso vertiginosi altitudini o come questi cavolini di Bruxelles che presto sbocceranno e fioriranno anch'essi assieme alla polimorfa tribù dei cavoli presenziano anche i cardi nell'estremità sud delle aiguole mentre lungo i bordi ecco i monumentali aglioni della valdichiana nella seconda generazione qui in sede in Telechia un altro fenomeno che scandisce nel flusso temporale questo marzo è la ripresa vegetativa della consolida maggiore che si era fermata con le gelate di quest'inverno ma ora è pronta a ripartire come solo lei sa fare sia sulle aiguole e sia lungo il fosso or bene, slittiamo ora nell'orto recuperato dal bambuseto dove nel capitolo 4 piantammo il mais con la tecnica di semina primordiale dopo il raccolto del mais qui abbiamo recuperato alcune aiguole con aglio, scalogno e cipolle a cui abbiamo aggiunto semi di fave nel capitolo 16 a febbraio ecco le ora che stanno nascendo splendenti sotto ai raggi della stella madre nella linea 1 così tra le postarelle di fave andiamo ad aprire la paccia matura per fare spazio ai cavoli preparati da gennaio a questa parte essendo piantine in vasetti abbastanza grandi per prima cosa riempiamo il volume del vasetto con la terra dell'orto per fare spazio a sufficienza per mettere il cavolo a dimora dopodiché rimettiamo la terra appena rimossa attorno al colletto della piantina e richiudiamo delicatamente la pacciomatura nella linea 2 è il momento di fare quel minimo ma significativo intervento sugli agliace in questo caso approcciamo l'aglio biancone di Romagna scostando la paccia matura e smuovendo lievemente il suolo in prossimità del colletto per i primi centimetri superficiali demotivando sul nascere il principio di compattamento che si stava per verificare essendo questo un terreno ad alto tenore argilloso come abbiamo visto nel capitolo 16 oltre a questo aspetto è altrettanto importante anche il semplice fatto il orto di essere qui a dare attenzione e cura a queste piante infondendo vibrazioni che certamente risuonano in maniera costruttiva un orto quando è abbandonato soffre della mancanza della manutenzione quotidiana così come soffre della mancanza delle attenzioni dell'ortolano invece un orto seguito con costanza ed attenzione giornaliera trae beneficio da entrambe tanto da rendere indeterminabile il confine che separa il caso in cui il beneficio sia causato dalla tecnica e il caso in cui il beneficio sia causato dall'attenzione che si pone mentre si svolge una determinata tecnica e in fondo ci diciamo va bene così siccome queste iuole le stiamo avviando poco alla volta partendo da un terreno calpestato per anni da ortolani e da trattori di passaggio arriviamo solo o addirittura ora alla formazione della linea 3 che corre lungo il perimetro esterno al margine tra iuole e camminamento essendo il terreno ancora compattato dai decenni di pedaggio facciamo un leggerissimo passaggio di forca vanga senza ribaltare la stratificazione del suolo bensì valorizzando la poca ma importante materia organica superficiale lasciandola lì dov'è come punti di riferimento abbiamo l'aglio della linea 2 e rispetto ad essi facciamo uno zig zag alternando in linea 3 piante da foglia come lattuga e sedano con piante da radice o per meglio dire da bulbo come le cipolle estive seminate in inverno dopodiché ancora una volta l'acqua torna ad essere protagonista risorsa indispensabile per la vita e per l'attecchimento delle piantine soprattutto durante i primi giorni dopo il trapianto ebbene è in questo splendido modo che inauguriamo l'arrivo di questa primavera mentre il giorno cede il passo alla notte che vede però alzarsi il vento improvvisamente nel giro di pochi minuti il vento diventa bufera soffiando con una potenza mai avvertita prima nel corso della mia esistenza relativamente breve le ore passano e il vento non si ferma e non diminuisce il suo impeto anzi si intensifica fino a sganciare il nylon di copertura della serra ribaltando mensole semenzai spazzando via in un lampo il frutto di mesi di lavoro di fronte alla tempesta in corso tornano alla memoria le parole di fukuoka innanzi all'abbattimento di un monsone sul suo piccolo podere quando diceva davanti a questo siamo impotenti non possiamo fare altro che pregare e così passiamo la notte tra l'arresa e la fiducia accettando la sublime fatalità dell'esistenza in cui siamo ospiti vulnerabili rimanendo però al tempo stesso connessi alla parte benevole della natura costantemente volta all'evoluzione e alla prosperità così al mattino ritrovando il risultato del putiferio notturno potremo battere i piedini a terra potremo farci prendere dall'esasperazione o addirittura dall'ira invece preferiamo convogliare le energie nella valorizzazione di ciò che c'è di ciò che è rimasto recuperando il recuperabile in virtù della resilienza se ad una prima occhiata l'esito poteva sembrare un inequivocabile disastro guardando bene sono molte le piantine che si sono salvate basta solo rimetterle in sesto basta aiutarle a rialzarsi e dargli nuova fiducia in risonanza con questo spirito propositivo così come l'accettazione sboccia dentro di noi nell'orto sbocciano i fiori del cotogno meliforme da cui l'anno scorso per la prima volta abbiamo fatto una perlibatissima marmellata e sebbene l'eco del frastuono della tempesta continua a riecheggiare dentro di noi il cielo è tornato limpido e tutto è calmo è un buon momento per valorizzare questa bella giornata presentando una nuova e sempre valida tecnica di manutenzione per l'orto sinergico ovvero l'allettamento della vegetazione quando supera l'altezza desiderata applicabile sia alle erbe spontanee e sia alle semine di riempimento come questa rucola seminata in autunno nel capitolo 11 che ora dopo un inverno di raccolta da taglio sta fiorendo diventando troppo alta rispetto all'aglio tanto da sottrargli buona parte della luce che gli serve per svilupparsi al meglio così prendiamo un ciuffo alla volta questa rucola e dapprima la avvitiamo su se stessa torcendola poi la pieghiamo in avanti e subito dopo la tiriamo indietro dando un contraccolpo tale da spezzare la struttura portante mantenendo però integri i vasi capillari grazie a cui la pianta può continuare a vivere e a fiorire convogliando la linfa dalle radici fino ai suoi apici ecco, ora che il lavoro è così compiuto vediamo che l'aglio biancone di Romagna torna a veleggiare in direzione di un trionfante raccolto che desideriamo ma non al punto di bremarlo certamente non vogliamo caricare di aspettative bensì preferiamo lasciarlo libero di esprimersi come vorrà e come potrà con lo stesso animo avviciniamo i cavoli cinesi nella linea 1 di questa iuola provenienti dal trapianto autunnale sotto al tessuto non tessuto ora finalmente sono intenti nella loro splendida fioritura che colora l'orto di tinte calde tanto da riscaldare l'animo e l'umore anche le api si sono subito accorte di questa fioritura ed ecco che arrivano a bottinare il nettare prodotto dalle piante mescolando i pollini da fiore a fiore da cavolo a cavolo favorendo così la preziosa impollinazione incrociata che permette la riproduzione dei preziosi semi nell'orto sinergico è importante che le piante possano compiere integralmente il loro ciclo vitale arrivando alla fioritura e alla produzione dei semi in questo processo alchemico avviene un'importante mobilitazione di sostanze per cui gli oli essenziali vengono canalizzati verso l'alto e immagazzinati nei semi mentre le sostanze minerali precipitano nell'apparato radicale e ritornano al suolo contribuendo al processo di autofertilità della terra poco alla volta nell'orto si vedono sbocciare anche i fiori di tutte le varietà di broccoli che finalmente ora sono liberi di incrociarsi ricombinando i loro patrimoni genetici dando origine a risultati impossibili da prevedere certamente potremmo provarci a immaginare cosa potrebbe saltare fuori da queste impollinazioni ma stando coi piedi per terra rimanendo radicati nella realtà per averne esperienza diretta abbiamo bisogno prima di seminarli e vedere concretamente cosa salta fuori e ancora prima abbiamo bisogno innanzitutto di arrivare al raccolto di questi semi e non è così scontato riuscirci marzo sta volgendo al termine e chissà quante altre avventure e quanti imprevisti sono in programma per questo nuovo anno dell'orto in telechia l'unica cosa che è certa in questo costante mutamento è che al di là di tutto vogliamo rimanere ancorati alla fiducia e alla gratitudine per ora è tutto grazie e a presto grazie a tutti Grazie a tutti.